Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video vi spiegherò come fare stelline infinite in Animal Crossing New Horizon. La prima cosa da fare è andare nelle impostazioni della console, poi su sistema, data e ora, disattivate questa voce, data e ora e mettete l'anno 2000. Il resto non è importante. Lanciate il gioco. Naturalmente questa procedura va ripetuta più volte a seconda del numero di stelline che volete. La procedura varia in base alle stelline che già disponete ed è infinita, può essere usata infinite volte, quindi per questo è il trucco delle stelline infinite. Ma non aspettatevi che vi dà appunto stelline infinite con una sola volta, ma vi dà comunque una somma elevata da permettervi di avere un aiuto per pagarvi i debiti o acquistare quello che desiderate. Naturalmente è inutile dirlo che questo trucco rovina l'esperienza di gioco. Allora, andate quindi sulla, diciamo, vostra isola con l'anno 2000 settato sulla console. Non potete ovviamente andare meno dell'anno 2000, quindi 2000 è il minimo. Quindi una volta che avete settato l'anno 2000, lanciate il gioco e andate sulla vostra isola. Quindi subitevi gli annunci giornalieri, se ci sono. Fatto questo, andate qui praticamente al centro servizi dell'isola. Dove troverete il terminale della NOC. Quindi interagite con il terminale e andate su Stellomat. Qui fate deposita, non rimborsa, deposita e depositate tutto quello che avete. In questo caso io ho 0, perché ho fatto un deposito prima, ma se voi avete qualcosa, depositatelo. Io ho 31.912 stelline depositate, che non c'entra assolutamente nulla rispetto al rimborso. Quindi una volta che avete fatto questo deposito, salvate la partita e uscite. Quindi premete meno sul Joy-Con o controller, salva ed esce. Attendete ovviamente che la partita venga salvata. Quindi non uscite dal gioco fino a quando la procedura non è finita. Attendete. Ci vuole qualche secondo. Dovete aspettare che il gioco torni al menu principale. Naturalmente maggiore è la quantità di stelline che avete depositato, maggiore saranno gli interessi. Quindi adesso uscite dal gioco, chiudete e andate nelle impostazioni della console, modificando nuovamente la data. Quindi sistema, data e ora, data e ora e mettete 2060, che è il massimo consentito, quindi non potete andare oltre. Ok, perfetto. E lanciate nuovamente il gioco. Ora, come accade nella realtà, le stelline che voi avete depositato maturano interessi. Quindi riceverete degli interessi che variano a seconda del numero di stelline che avete depositato. Quindi, ricapitolando, il trucco è quello di settare 2000 come hanno nella console, lanciare il gioco, depositare tutte le stelline, salvare la partita, uscire dal gioco, andare nelle impostazioni della console, settare anno 2060, tornare in gioco e avrete maturato gli interessi. Potete guadagnare fino ad un massimo di 99.999 stelline. Non potete andare oltre, quindi questo trucco va ripetuto poi più volte a seconda, ovviamente, del numero di stelline che volete. Se, ad esempio, per costruire il ponte vi viene richiesto un totale di 300.000 stelline, voi dovrete ripetere questa procedura tre volte. Ammesso, naturalmente, che le stelline guadagnate siano 99.999. Ovviamente, per guadagnare una cifra del genere dovete anche aver depositato un numero di stelline soddisfacenti, quindi praticamente elevate. Ora, vediamo quanto ho intascato con questo trucco. Quindi, interagiamo con la cassetta postale. Banca NOC. Ecco qua, 99.999 stelline. Ora, se ripetete questo trucco, diciamo, all'infinito, avrete tanti assegni da 99.999 stelline. Se questo video vi è servito, cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportare Tech Gaming e non esitate a lasciare un commento per qualsiasi domanda.